ciao a tutti eccoci qua con una nuova idea questa idea facilissima da realizzare e anche velocissima come le altre tutorial che abbiamo fatto in questi giorni questa è veramente bella si può indossare in diversi modi e adesso io l'ho messa come sciarpa vedete anche questi bellissimi pompon e poi l'ho fatta molti color c'è più bella e vi metterò delle foto dove come si possono indone come verrà indossato o chi vuole indossare in vari modi la potete fare più larga più lunga come lo desiderate voi niente cosa dire adesso possiamo al nostro lavoretto ciao ciao bene io per questo lavoro utilizzate 105 ho consumato i 150 grammi di filato naturalmente usato questo colorato queste ruote con l'uncinetto del 4 se riuscite a vedere non è a fuoco ok le 4 bene andiamo al lavoro che diciamo subito che questo lavoro è un multiplo multiplo di 17 catenelle ok io ho messo su 255 catenelle naturalmente dipende dal filato che usate se utilizzate un filato più sottile allora mettete più catenelle e anche dipende dalla lunghezza che volete fare se volete arrivare a un 2 metri dovete mettere più catenelle ma vi ripeto dipende sempre dal filato che usate se util ha usato un filato morbido e un con un genetto 4 e mezzo 5 allora le catenelle sono di meno che dipende anche da quello ma sapete che è un multiplo di 17 catenelle ok andiamo al lavoro beh io ho messo su 51 catenelle naturalmente voi mettete su tutte le catenelle che vi interessano ok queste solamente piccolino per farvi vedere come si lavora bene adesso facciamo tre catenelle due catenelle scusate 12 saltiamo 123 andiamo alla quarta andiamo a fare una maglietta e ne abbiamo fatti due andiamo nella succe in catenella successiva andiamo a fare la terza maglietta 3 andiamo nella successiva andiamo a fare la quarta maglietta andiamo nella successiva andiamo a fare la quinta maglietta andiamo con te ne abbiamo fatto abbiamo fatto uno due tre quattro cinque andiamo nell'ultima catenelle sembra nella successiva andiamo a fare l'ultima maglietta totale 6 magliette adesso facciamo 6 catenelle 1 2 3 4 5 e 6 saltiamo 5 catenelle di base 1 2 3 4 5 andiamo alla sesta andiamo a fare una maglietta netta di nuovo andiamo nella successiva andiamo a fare la seconda maglietta andiamo nella successiva facciamo l'attezza maglietta nella successiva a quarta maglietta nella successiva la quinta maglietta nella successiva la sesta maglietta così 6 catenelle 1 2 3 4 5 6 e poi ricominciamo sempre con saltando 5 catenelle di base 1 2 3 4 5 la sesta andiamo a fare di nuovo le 6 magliette 1 andiamo a successiva 2 nella successiva 3 nella successiva 4 scusate nella successiva 5 e nella successiva andiamo a fare l'ultima maglietta 6 maglietta vedete così di nuovo 6 catenelle 1 2 3 4 5 6 saltati di nuovo le 5 catenelle andate alla sesta e andate a fare di nuovo le 6 maglietta di nuovo 6 catenelle poi saltate 5 catenelle alla sesta le 6 maglietta come abbiamo fatto adesso ok facciamo tutto il giro così ok sono alla fine leggero giro ho fatto le 6 catenelle adesso contiamo 1 2 3 4 5 alla sesta catenella vado a fare una maglietta 1 andiamo nella successiva facciamo la seconda nella successiva la terza successiva la quarta la nella successiva la quinta nella successiva 6 detto se vi rimane una catenella non vi preoccupate dopo si sfila non è un problema l'importante è finire con le sei magliette così adesso facciamo il secondo giro facciamo 3 catenelle 1 2 e 3 giriamo il lavoro e lavoriamo adesso tutte le 6 magliette andiamo nella seconda e andiamo a lavorare la seconda maglietta diamo nella successiva facciamo la successiva maglietta praticamente adesso lavoriamo tutte le 6 magliette vedete così ogni maglietta sottostante lavoriamo una maglietta così 6 magliette vedete ok adesso 6 catenelle 1 2 3 4 5 6 praticamente stiamo ripetendo il primo giro adesso andiamo nella prima maglietta e lavoriamo la maglietta andiamo nella successiva lavoriamo la successiva maglietta nella successiva una maglietta nella successiva una maglietta nella successiva una maglietta nella successiva una maglietta totale abbiamo lavorato di nuovo 6 magliette adesso di nuovo 6 catenelle 1 2 3 4 5 6 e di nuovo andata a lavorare tutte le 6 magliette poi di no a 6 catenelle 6 magliette 6 catenelle alla fine finite con le 6 magliette quando siamo qui vi faccio vedere sono fini hanno finito il secondo giro ma dalla terza catena iniziale vado a fare l'ultima maglietta totale 6 magliette ok adesso devo fare il terzo giro una catenella e giriamo il lavoro dove ho fatto la catenelle entro vado a fare una maglia bassa e lo contiamo con un punto ok 1 poi 2 adesso facciamo le catenelle allora una maglia bassa e un punto poi una catenella siamo a 2 3 catenelle 1 2 3 4 5 6 7 8 totale 7 catenelle più una maglia bassa che abbiamo fatto sono diventate otto vedete una maglia bassa e poi 1 2 3 4 5 6 7 catenelle adesso andiamo dove c'è il foro chi vuole lavora direttamente dentro fuori e fa le sei magliette ma io vado nella prima catenella ok ma da fare una maglietta nella se catenella successiva da fare la seconda maglietta nella catena successiva da fare la terza maglietta lette sempre dove ci sono le catenelle nella catenella successiva da fa la quarta maglietta nella catena successiva da fare la quinta maglietta così la quinta maglietta nell'ultima catenella vado fa la stessa maglietta e abbiamo fatto 6 magliette ok adesso di nuovo 6 catenelle 1 2 3 4 5 6 vado nel foro successivo da lavorare le sei magliette vado per io non lavoro nel foro va di direttamente nelle catenelle per cui vado nella prima catenella vado a fare una maglietta vado nella successiva voglio fare un'altra maglietta nella successiva un'altra maglietta nella successiva un'altra maglietta nella successiva da fare un'altra maglietta siamo già a 5 magliette vado nell'ultima catenella e vado a fare l'ultima maglietta totale sei magliette vedete così adesso di nuovo se catenelle poi andatene fuori fatto le sei magliette chi vuole il ripeto lavoro ogni catenella una maglietta totale sei magliette così via fino ad arrivare alla fine del giro questo è il terzo giro sono alla fine del testo giro fatto le sei catenelle adesso vado alla terza catena iniziale e vado a fare una maglietta ok e abbiamo fatto così e terzo giro il 4 giri uguale al terzo giro per cui una catenella giro il lavoro e vado a fare dove ho fatto la catenella una maglia bassa adesso facciamo 7 catenelle 1 2 3 4 5 6 7 vado dove c'è la prima maglietta e vado a lavorare la maglietta adesso vado a lavorare tutte le magliette totale 6 magliette 2 vado nella successiva 3 nella successiva 4 nella successiva quinta l'ultima maglietta stessa maglietta vedete così bene adesso andiamo a fare 6 catenelle 1 2 3 4 5 6 vado nella successiva dove ci sono le magliette nella prima maglietta vado a fare la maglietta così sono tutte le magliette da fare le 6 magliette 2 poi nella successiva 3 nella successiva 4 nella successiva quinta nella successiva l'ultima maglietta che la sesta maglietta letta così adesso andiamo facciamo di no 6 catenelle 1 2 3 4 5 6 e andate dove c'è la prima maglietta lavorata maglietta e poi lavorate tutte le altre 5 magliette totale 6 magliette così il quarto giro andiamo a finire 4 giro ok andiamo vedete sono alla fine del 6 del 4 giro fatto le 6 catenelle adesso una maglia bassa nella prima catenella qua in finale andiamo a fare una maglietta e questo è il nostro 4 giro totale il nostro gruppo sono fatti di 4 giro primo secondo tezza e 4 per cui il nostro gruppo è dall 1 fino a 4 giro ok totale 4 giri e un gruppo adesso ricominciate di nuovo dal primo giro nel primo giro ve lo faccio vedere di nuovo si fanno le 3 catenelle 1 2 3 si gira il lavoro e si va a fare direttamente in totale una l'abbiamo già fatta perché già una maglietta vado nella catenella successiva e vado a fare la seconda maglietta totale andiamo a fare adesso 5 magliette totale anzi no 6 perché con le 3 catenelle equivale una maglietta siamo a 4 5 e 6 nell'ultima catena vado fare la stessa maglietta totale 6 magliette 2 4 e 6 adesso 6 catenelle 1 2 3 4 5 6 e andate direttamente dove c'è il foro nella prima catenella andato a fare una maglietta 1 nella catenella 2 facciamo sempre maglietta nella catena successiva 3 nella catena successiva 4 4 nella catenella successiva 5 nella catena successiva 6 totale 6 magliette questo è il nostro primo giro vedete ricominciati di o 6 catenelle poi andate nel foro andate a lavorare 6 magliette 6 catenelle 6 magliette 6 catenelle 6 magliette anche alla fine nel nostro lavoro vi faccio vedere alla fine del primo giro così poi potete continuare voi fino al giro questo è il primo giro con iniziato vedete ho fatto le 6 magliette e rimane dove c'è l'ultima catenella ho fatto la maglietta quello dove c'è la maglia bassa non va lavorata perché poi quanto finiamo il nostro motivo ok questo ci serve libero per cui si lavora così vedete e questo primo giro totale io di gruppi ho fatto 9 gruppi per cui questo primo gruppo adesso avete iniziato il primo giro già sapete che il gruppo è fatto da quattro gire dal primo a quattro giro mette 1 2 3 e 4 mette l'ultimo fare 4 adesso avete cominciato di nuovo l'uno poi 2 3 e 4 il secondo gruppo totale di gruppi io ne ho fatti 9 ok sul mio lavoro adesso ve lo faccio vedere dopo aver fatto il motivo in totale voi fate 8 gruppi io ne ho fatti poco perché questo è solo un campione per farvi vedere come lavorare per cui adesso andiamo a fare i bordi del lavoro e vi faccio vedere dal regionale originale lavoro come viene adesso noi andiamo a fare questa parte qui vedete questa parte qui il bordino ok e vi faccio vedere come realizzarlo bene io adesso ho finito vedete l'ultimo giro del 4 giro cosa faccio sempre qui entro vedete entro dove c'è la maglia bassa ma dove c'è una catena in separazione perché abbiamo finito con la maglietta poi vado dove c'è la maglia bassa entro vado a fare due magliette 1 2 2 catena di separazione di non rientro vado a fare di nuovo due magliette e abbiamo formato un ventaglietto così abbiamo finito con la maglietta una catena in separazione poi perché questo è il giro che giustamente finisce con la maglietta poi dove c'è la maglia bassa ho fatto due magliette 2 catena maglia 2 magliette del ventaglietto poi faccio una catena in separazione vado qui vedete qui al centro delle maglie vado a fare una maglia alta una catena in separazione vado qui dove c'è vedete le catenelle entro così cerco di entrare bene e vado a fare di nuovo il ventaglietto 2 magliette una rientro 2 2 catenelle separazione e rientro che vado a fare un altro altri 2 magliette 1 e 2 così poi di nuovo una catenella di separazione vado qui di nuovo al centro lui ci sono le magliette qui al centro entro vado a fare una maglia alta una catena in separazione vado qui di nuovo dove c'è vedete le catenelle entro così vado a fare due magliette 1 rientro 2 2 catenelle di separazione di nuovo rientro vado a fare 2 magliette 1 e 2 una catena in separazione siamo qui vedete noi abbiamo fatto nell'inizio vado qui dove c'è la maglietta come qua vado direttamente qua dentro nella prima maglietta vado a fare la maglietta una catena in separazione vado qui l'accento nella seconda maglietta vedete qua vado a fare di nuovo il ventaglietto 1 2 3 no scusate 2 una catenella di non rientro vado a fare le due magliette catenelle separazione devono essere due su me l'ecco sbagliato due catenelle di separazione vedete di non rientro da fare altre due magliette 1 e 2 1 e 2 una catena in separazione di nuovo adesso vado qui direttamente centro delle due magliette qua vedete 22 vado al centro qui vado a fare una maglietta poi di nuovo una catena in separazione adesso andiamo qui nel foro vado alla terza catenella 1 2 3 vado a fare di nuovo il ventaglietto 1 rientro sempre la stessa catenella 2 2 catenelle rientro vado a fare due magliette 1 e 2 una catena separazione adesso andiamo dove ci sono le magliette contiamo 1 2 3 al centro delle tre magliette così entro vado a fare una maglietta una catenella separazione e di nuovo adesso dove ci sono le catenelle ok vado qui alla terza catenella 1 2 la terza catenella vado a fare di nuovo il ventaglietto 1 una maglietta rientro 2 rientro 3 no scusate due magliette 2 catenelle rientro vado a fare due magliette 1 e 2 il ventaglietto di 2 magliette 2 catenelle 2 magliette lette come viene il lavoro così di nuovo una catenella di separazione vado dove ci sono le sei magliette conto 1 2 3 al centro delle tre magliette vado a fare una maglietta una catena separazione di nuovo andiamo qui al centro delle catenelle vado a fare ventagliette 2 magliette 1 rientro 2 2 catenelle rientro altre due magliette 1 rientro 2 e abbiamo fatto anche qui perché il ventaglietto ho detto come viene il bordino così poi di nuovo una catenella di separazione e andiamo dove ci sono le tre magliette 1 2 3 al centro vado a fare una maglietta ho detto così una catena separazione di nuovo andiamo alla terza catenella quindi andiamo a fare due magliette 1 2 2 catenelle di non rientro vado a fare di nuovo le due magliette 1 e 2 una catenella separazione di non vado vedete qua adesso qui invece facciamo 1 2 anzi si 3 al centro facciamo una maglietta poi una catenella sempre a tre l'altezza maglia vedete 1 2 300 facciamo una maglietta poi una catena separazione vado non la prima maglietta nella seconda qua accendo dopo la seconda 12 entrò nella penultima maglietta vado a fare una maglietta rientro faccio la seconda maglietta 2 catenelle rientro vado a fatte due magliette 1 e 2 di nuovo una catenella in separazione poi vado qui direttamente qui siete dove c'è il legamento della una maglietta l'altra maglietta vento qui vado a fare una maglietta una catenella in separazione adesso dove c'è la maglia bassa vedete che qua c'è la maglia bassa entrate qui nella maglia bassa è andata a fare il ventaglietto 1 rientro 22 catenelle e rientrate 2 magliette sempre dove c'è la maglia bassa 1 e 2 una catena separazione adesso vado dove ci sono le magliette vedete le sei magliette vado qui al centro tra una maglietta e la seconda maglietta centro faccio una maglietta una catena separazione adesso vado dove c'è la maglia bassa vado a fare anche qui le due magliette 1 2 2 catenelle rientro di nuovo due magliette naturalmente voi dovete andare avanti si fino alla lunghezza che ritrovato che io vi sto facendo vedere come fare tutto il giro 2 come vi sto facendo far vedere come fare gli angoli e tutto vedete abbiamo iniziato la qui e sto finendo la parte girato vedete che sta girando il lavoro ok adesso siamo di nuovo all'angolo naturalmente voi dovete fare se questa lunghezza questa parte più larga giustamente dovete continuare ok poi quando arrivato poi negli angoli dovete fare come vi ho fatto vedere io adesso una catenella vado 102 le due maglie 1 e 2 al centro qui vado a fare scusate così prendo centro una maglietta una catenella vedete siamo di nuovo all'angolo vedete che siamo qui all'angolo e andiamo a fare di nuovo le due magliette 1 rientro 2 2 catenelle e di nuovo andiamo dove ci sono catenelle perché vedete che qua non ci sono le catenelle si fa di nuovo la maglietta l'altezza catenella andiamo fa la maglietta no perdonatemi scusatemi c'è uno sbaglio perdonati quando arrivo all'angolo allora lo faccio vedere bene allora siamo qui abbiamo fatto la maglietta una catena separazione andiamo direttamente qui nel foro e andiamo a fare quello non mi andava bene una maglietta rientro due due catenelle di non rientro vado a fare le due magliette 1 e 2 una catena separazione adesso dove c'è la maglia bassa entro vado a fare una maglietta una piatta così che stiamo ricominciando giro di nuovo una catena separazione dove ci sono le catenelle entriamo e andiamo a fare di nuovo le due magliette 1 2 2 catenelle rientro vado a fare due magliette 1 e 2 una catena separazione di onde ci sono le sei magliette 1 2 3 al centro dei maglietti vado a fare una maglietta così letta di nuovo una catena separazione andiamo dove ci sono le catenelle ok 1 2 3 qui andiamo a fare di nuovo il ventaglietto 1 rientro 2 2 catenelle 1 2 rientro vado fatte 2 magliette 1 e 2 magliette 1 e 2 magliette 2 magliette 1 2 3 al centro vado a fare la maglietta una catena separazione di nuovo ma dove ci sono le catenelle vado a fare di nuovo ventaglietto 1 rientro 2 2 2 catenelle rientro vado a fare di nuovo atti 2 magliette 1 e 2 una catena separazione di nuovo dove ci sono le sei magliette conto 1 2 3 entro da fare una maglietta così data come stavendo il lavoro vedete come bello vedete andiamo a finire l'ultimo giro una catenella andiamo qui dove ci sono le catenelle vado a fare di nuovo ventaglietto 1 rientro 2 2 catenelle e di un rientro vado a fare le due magliette 1 e 2 1 catenelle vado dove ci sono le sei magliette al centro della testa variato 1 2 3 a 100 vado a fare una maglietta una catenelle separazione vado qui dove ci sono le catenelle accendo vedete qua entro vado a fare le due magliette 1 rientro 2 2 catenelle rientro di nuovo vado a fare due magliette 1 2 una catenelle separazione adesso vado qui direttamente dove c'è la maglietta qui entro così accendo nella maglietta faccio una maglia bassissima ok poi di nuovo ricominciate con le 3 catenelle 1 2 3 questo è l'inizio di nuovo di nuovo un più una 4 catenelle andate dove c'è il ventaglietto questo è il secondo giro di nuovo che stiamo iniziando detto siamo iniziando il secondo giro del nostro bordino e secondo giro facciamo 4 catenelle come vi ho fatto vedere 4 catenelle dove c'è ventaglietto adesso prima abbiamo fatto due magliette due catenelle 2 magliette adesso facciamo 3 magliette 1 2 3 2 catenelle separazioni non rientro vado a fare a 32 ma il 3 magliette 1 2 e 3 una catena separazione dove c'è la maglietta vado a lavorare la maglietta adesso è facilissimo una catena di separazione dobbiamo direttamente le ventagliette lavoriamo 3 magliette 1 2 e 3 2 catenelle separazioni di un rientro e vado a fare 3 magliette 1 2 e 3 una catena di separazione di nuovo vado dove c'è la maglietta vado a fare la maglietta vedete così tutto il secondo giro dove c'è il ventaglietto lavorate 3 magliette 2 catenelle separazioni 3 magliette poi una catena separazione andate dove c'è la maglietta lavorata una maglietta una catena separazione è andato dove c'è anzi quando siete all'angolo e fate due catenelle separazione tra un ma allora fate una catena separazione una maglietta poi due catena separazione perché sennò se vi si stringe il lavoro mi si arriccia per cui quando arrivate qua all'angolo invece di fare una catena separazione fate due poi arrivate qui nel ventaglietto fate tre magliette due catenelle magliette poi di nuovo girate il lavoro fate due catenelle separazione solo quando c'è l'inizio dell'angolo vedete 4 cari in due catenelle separazione ventaglietto due catenelle maglietta poi una catena separazione di nuovo ventaglietto così via quando arrivate sempre all'angolo fate due catene separazione perché così non mi si stringe il lavoro ok e facciamo tutto secondo giro così bene finisco il secondo giro con le due catenelle separazione e va dalla terza catena iniziale 123 123 vado a fare una maglia bassissima bene qui è finito il nostro secondo giro adesso vi faccio vedere si lavora solamente questi due lati qua questo e questo quella parte più lunga non si lavora e vi faccio vedere il lavoro completo ok questo è in inizio il nostro giro vi faccio vedere quanti gruppi ho fatto e si conta da qui 1 2 3 4 5 6 7 8 e 8 anzi 8 gruppi scusate pensavo di aver fatti 9 invece 8 gruppi li contiamo 1 2 3 4 5 6 7 8 gruppi totale ho fatto 8 gruppi ok per cui facciamo 8 gruppi totale poi se una vuole andare che la vuole più larga naturalmente può farla più larga non è un problema ok adesso io ne faccio qualche luna ancora va davanti un altro po e così poi iniziamo a fare il bordino ok andiamo avanti adesso noi abbiamo fatto il bordino questa parte tutta questa parte qui letto come lungo questo faccio vedere ok noi adesso lavoriamo solo questa parte qui questa parte qui lunga dove la parte più corta vedete e poi lavoriamo questa parte qui sono i due lati prima lavoriamo un pezzo e poi lavoriamo il secondo pezzo la parte sopra vedete questa parte sopra qui lunga non va lavorata neanche la parte sotto per cui andiamo a lavorare adesso mettiamo così solo questa parte qui e vi faccio vedere come adesso cosa facciamo questo secondo giro abbiamo finito andiamo a tagliare il filato che non ci serve e lo andiamo a nascondere dopo lo nascondiamo ok adesso noi lavoriamo come vi ho detto non la parte larga quella più lunga lavoriamo solo la parte piccolina i lati fondo ok questa parte qui vedete che questo è il lavoro è così non lo mettiamo così e iniziamo dove c'è il primo ventaglietto vedete che io vabbè io sono quattro da voi sono più grandi più in ventaglietti per cui prendiamo il nostro filato entriamo e andiamo a fare 3 catenelle 1 2 3 rientro vado a fare sempre nel ventaglietto le magliette 2 perché le 3 catenelle equivale già una maglietta ho fatto la seconda maglietta adesso se prima abbiamo fatto 3 magliette adesso ne facciamo 4 magliette 3 e 1 a 4 2 catenelle separazione rientro sempre ventagliette vado a fare 4 magliette 1 2 3 e 4 una catenelle separazione ma dove c'è la maglietta vado a lavorare vedete la maglietta l'unica cosa adesso che in questo giro cambia che invece una catenelle separazione invece di 3 magliette 2 catenelle 3 magliette facciamo 4 magliette dentro nel ventaglietto 1 2 3 e 4 2 catenelle separazione di nuovo rientro vado fatte 4 magliette 1 2 2 3 e 4 così una catenelle separazione di nuovo vado dove c'è la maglietta vado a fare la maglietta una catena separazione ma dove c'è un ventaglietto lavoro il ventaglietto 2 facendo 4 magliette e 4 2 catenelle separazione di nuovo rientro vado a fare 4 magliette 1 2 3 e 4 una catena separazione così dove c'è la maglietta lavora la maglietta lavorate fino alla fine e poi quando arrivato all'angolo di nuovo una maglietta una maglietta una maglietta una catena separazione dove c'è ventaglietto lavoro l'ultimo ventaglietto 1 rientro 2 rientro 3 rientro 4 2 catenelle separazione nuovo rientro vado a fare altre 4 magliette 1 2 3 e 4 e questo è il primo giro che stiamo lavorando così ora visto che non abbiamo detto che lavoriamo solo questi due lati ok questo lato qui questo qui non si tocca più e poi si lavora questo lato prima finiamo questo lato qua poi cominciamo all'altro lato ok per cui adesso vi vi faccio vedere il giro successivo adesso cosa facciamo facciamo giriamo il lavoro ok e camminiamo fino ad arrivare nel foro con delle maglie bassissime così camminiamo con delle maglie bassissime fino ad arrivare nel foro adesso sono arrivati nel foro se prima abbiamo fatto 4 magliette adesso ne facciamo 5 5 magliette 3 catenelle 5 magliette sempre nello stesso ventaglietto 3 catenelle rientro vado a fare 4 magliette 1 2 3 e 4 perché abbiamo già le 3 catenelle si equivale già una magliette per cui 1 2 3 4 5 poi 3 catenelle separazione 1 2 3 rientro vado a fare di nuovo 5 magliette 1 2 3 4 4 e 5 una catenelle separazione di nuovo vado dove c'era maglietta vado a fare la maglietta una catenelle separazione di nuovo andate dove c'è ventaglietta andata fa 5 magliette 1 2 3 4 e 5 3 catenelle di separazione 1 2 3 rientro vado a lavorare 5 magliette 1 2 3 4 e 5 una catenelle separazione di nuovo vado dove c'era maglietta vado a fare la maglietta una catenelle separazione di nuovo andiamo nel ventaglietto lavoriamo 5 magliette 3 catenelle separazione 5 magliette una catenelle separazione dove c'era maglietta lavoriamo la maglietta e così via fino ad arrivare all'ancolo qui nel nostro l'ultimo ventaglietto quando arriviamo qui nell'ultimo ventaglietto facciamo di nuovo 5 maglietta 3 catenelle 5 maglietta e poi ci ritroviamo qui bene ho finito vedete l'angolo ne ho fatto l'ultimo nell'ultimo giro fatto vedete se 5 maglietta 3 catenelle 5 maglietta adesso di nuovo rigiriamo il lavoro ok e camminiamo sempre con delle maglie bassissime fino ad arrivare nel foro questo è l'ultimo aumento che facciamo ok ecco andiamo nel foro e andiamo a fare una maglia bassissima adesso questo è l'ultimo momento che facciamo poi che facciamo 3 catenelle 1 2 3 adesso lavoriamo totale 6 magliette 3 catenelle già abbiamo fatto una maglietta rientro vado a fare altre 5 magliette 1 2 3 4 e 5 totale sono 6 con le 3 catenelle di inizio ricordate 246 ora cosa facciamo 3 catenelle 123 rientri vado a fare di nuovo a 36 magliette 1 2 3 4 5 e 6 di una catena di separazione poi andiamo dove c'è la maglietta facciamo la maglietta una catena separazione di nuovo andate nel ventaglietto è andata a lavorare il ventaglietto poi di nuovo in ventaglietto con 6 magliate 3 catenelle 6 magliate nel ventaglietto 1 catena separazione della maglietta lavorate la maglietta poi una catena separazione di nuovo nel ventaglietto 6 magliate 3 catenelle 6 magliate fino ad arrivare qui al fa l'ultimo ventaglietto che il fate di nuovo 6 magliate 3 catenelle 6 magliate poi girati il lavoro e rifatti di nuovo lo stesso ventaglietto con 6 magliette 3 catenelle 6 magliette una maglietta e una catenze base una maglietta 6 catenelle di nuovo così non so adesso vi dirò quanti giri ho fatto con 6 magliette 3 catenelle 6 magliette questo è il primo giro ok adesso vi dirò quanti giri ho fatto io ok io tutto l'ho fatto lo 3 4 5 6 da questa parte qui abbiamo fatto vedere siamo 6 catenelle 6 magliette 3 catenelle 6 magliette poi di nuovo allora abbiamo fatto 1 2 3 4 giri così con 6 magliette 3 catenelle 6 magliette totale 4 giri ok finite la prima parte e poi andate a fare la stessa cosa nell'altra parte iniziate con 3 magliette 2 catenelle 3 magliette poi 4 magliette 2 catenelle 4 magliette poi 5 magliette 3 catenelle 5 magliette poi 6 magliette 3 catenelle 6 magliette nel ventaglietto e poi di nuovo è fatta per 4 ho detto e altre tre volte con 6 magliette vedete 1 2 3 più una 4 che abbiamo fatto 4 8 giri ricordatevi sempre una catena separazione una maglietta lo stesso modo e così infatti due lati letto 1 e se ve lo faccio vedere 1 e 12 letto ok i due lati a parte su e su ok adesso dopo di questo dopo aver fatto questa parte qui finita questa parte qui vi faccio vedere cosa fare dopo aver finito la parte i due lati con i ventaglietti naturalmente una cosa volevo dire se i ventaglietti volete farlo ancora di più più grande potete continuare cioè io mi sono fermata così però voi potete ancora continuare dipende la lunghezza che desiderate ok adesso cosa facciamo andiamo a fare i pompon il pompone me lo faccio vedere vi metterò il link sotto nell'informazione del lavoro mi metterò direttamente come fare questi pompon io naturalmente vi dico che questi bombone l'ho utilizzato con questo il più piccolo che c'è ok l'ho fatto piccolino poi se volete voi volete fare più grande più dipende di quello che volete ok io nella spiegazione di come fare questi pompon basta andare nel nell'informazione lì vi metterò il link come realizzare i pomponi con questi attrezzi che ritroverete su amazon niente poi cosa fate dopo aver fatto i pomponi cosa fate vedete che lasciate il filo entrati dove ci sono vedete che qua ci sono le frie catenelle di separazione entrate direttamente così fatto un due nodini e poi andate a nascondere il filato non fate uno poi dipende contate quanti ventaglietti avete e dividetino messi tre da una parte e tre dell'altra parte lette con un bello bene detto questo io cosa dire spero che vi sia piaciuto questo bellissimo lavoro morbido vedete come morbido che l'abbiamo realizzato anche questo periodo visto il freddo che fa non è male come idea cosa dire grazie a tutti spero che mi seguite in tanti e vi bacio un bacio a voi ciao ciao